Poi andiamo nella mia maniera I ragazzi ciao a tutti questa è la terza parte Ci sono tantissimi parti per andare nell'era Vieni il tuo dammi cibo Cosa? Dammi cibo Non ce l'ha il cibo? Allora mi mangio la redstone Sto sanguinando a mangiarti la redstone No ti prego lo stai fanno Sto sanguinando ti prego Da Erobrain Che cazzo Ragazzi No è morto È morto Leo Sono morto Giapito Che cazzo Mi ha droppato il suor Così Dov'è? 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 No! È morto RIP 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 Falkor 2010-2021 No Dai ti tappo da me Ti tappo da me No mi sto tappando io Vabbè ti pappo Sto tappando io da te No? No no Ma perché sei morto scusa prima? Io lo so Stavo sanguinando Dov'è il tuo sangue? Eh, l'ho presa L'ho presa e l'ho bevuta Ma Ma perché hai la faccia da vampiro? Perché hai la faccia da vampiro? Ma cos' Cosa vuoi vedere? Fammi vedere un secondo No, non eri così prima Ragazzi, ho una mia impressione Il tuo sangue No, no, no Aiuto Voglio il tuo sangue Voglio il tuo sangue No, che succede? Oh, sole, sole, sole Scendi, scendi, scendi Scendi, scendi La palla, la palla, dove la palla? Dov'è? Aiuto Qui siamo per cercare le cose Non siamo qua per cercare Gingigliamo, ragazzi Per queste due minuti abbiamo gingigliato Ora bisogna Ce l'hai in secchio d'acqua? Aspetta, mi metto No Quello in diamante Perché se no riesco a prendere il Questo mi lo metto qui Perfetto Che stai facendo? Ragazzi, che stai facendo? No, 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 no Ti prego, dammi Ti prego Dammi la mano Perché sono cieco? Dove sei? Come dammi la mano? Dove sei? Sto morendo Ma dove sei? Doh Come si è morto? Ah, i pillager Come pillager Vieni da me, ti impati da me Ci sono i pillager Ci sono i puzzali Il puzzagel Ma se credete che soltanto voi avete un'arma con le frecce? Cosa dove è? Qui Sporami amanti immediatamente Sporami amanti immediatamente Ragazzi Questo è un episodio pochettino così E la parte Poi ho fatto una palestra Mi ho fatto una palestra Non me lo voglio No, no Prendilo pure tu Ma l'augurio Non lo voglio Ciao Dove sei sporato? Eccola Io faccio delle skill E poi Titi Ho tre Colpi di palestra Con perforzia da una Ok Mi direi trasporto No, aspetta, aspetta Non mi uccidere 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 Perché? Sto prendendo cibo Sto prendendo cibo Per tutti e due 3 2 No No 1 Adio Perché ci sono delle cesse qui? Dove la tua casa? Perché questa è la mia casa Ah Oddio Sono caduto Porca miseria Allora ragazzi Questo è un episodio Un pochettino così Perché praticamente Avevo avuto tanti ero Lui è diventato un vampiro Ci hanno attaccato Meno male che io con la mia spada E gli ho triturati Che sta Oh no Che che No 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 Io lì c'ho dei diamanti Che sta facendo? Ma io non ho preso i miei diamanti Io Cioè io non c'ho mica diamanti Nel mio inventario No no Che sono i diamanti Rilasci Rilasci Rilasci? Leo Dammi diamanti No Leo Leo lo so che ci sei Leo lo so Leo inutile Lo so che ci sei Leo lo so Leo lo so che ti sei mutato Lo so Non vuoi dare i diamanti Quella era la mia cesta L'ho trovati io Ci ho messo 10 minuti per trovare solo 4 in me No Ragazzi Tengamo pronta la spada in diamante Dove è rinato? Chi? Lui? Dove? Qua? Ragazzi questo episodio è un pochettino così Oh Perché sono in creativa? No 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 Ragazzi vi giuro Non mi sono messo io in creativa Ve lo giuro No ve lo giuro ragazzi Io non L'avete visto? Ok survival L'hai messo tu in creativa? Oh mio dio Aiuto 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 Non mi mordere 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 Dove? Mi prendo la spada inferno che è più realistica No Che? Chi? No 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 Gli amigati Gli amigati Ci si mettono più Gli amigati Come lo Ok Come lo Dove è andato? Dove sei? Ma Ragazzi Questo Questo episodio Si chiamerà Leonardo è diventato un vampiro Dove sei? Le valpi Uccidere le valpi Le valpi Malte valpi Svegliati Svegliati Ti metti contro di me Oh mio dio Porca miseria Dove l'hai presa quella? No Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Calmati 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 Riserviamo 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 No Ti prego Ma perché Che è questa La nederite? Ma non l'ho neanche trovata La nederite Ma non l'ho neanche trovata io Impossibile Che tu hai trovato la nederite Ti sei messo in creativa E poi hai messo in creativa anche me Che avevo promesso nel primo episodio Che non c'era mai la creativa Mi hai fatto Mi hai fatto mentire agli iscritti No L'ho messo nel video No Non è che mi hai fatto mentire È che Io avevo promesso Non è che avevo promesso Non lo so Detto agli iscritti Che non mettevo la creativa Però tu mi hai messo in creativa Ragazzi L'avete visto tutti Io non mi sono messo in creativa Sono messa io Perché mi hai messo in creativa Perché mi hai messo in creativa Perché lui è i diritti Lui è i diritti di operatore Ecco perché ha fatto Perché lui Cioè non è i diritti di operatore Hai I permessi Più Più avanzati Come i miei Come i miei Dove sei Questo video Si chiamerà Leonardo È diventato un pupillo È diventato un pupillo Ragazzi Lo devo fare Lo devo fare Ragazzi Lo devo fare Un secondo Leonardo Lo devo fare Lo devo fare Lo devo fare Ragazzi mi dispiace Lo so Lo so Non lo so Cosa sto facendo Lo so Ragazzi Lo so Cosa voglio fare Non puoi tenermi i poteri Dai Che cosa Che cosa Perché se mi trattiva I poteri I poteri I poteri I poteri Mi aiuterò Di essere più potente Più potente Più potente Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio Non posso battere Le diritti Impossibile No 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 Ti prego Ti prego Ti prego Ho bisogno di mele d'oro Ho bisogno di mele d'oro Per combattere Ragazzi Ragazzi Ci vediamo Nel prossimo episodio Ciao Ciao Ciao